Matteo Casagrande, responsabile Business Development, Imprese, Banca dei Territori, Intesa San Paolo. Perché finanziare le start-up è decisivo per lo sviluppo dell'Italia? Allora, il tema delle start-up merita, secondo me, un passaggio importante sul processo di sviluppo del fenomeno delle nuove idee nel sistema economico italiano. Spesso, infatti, noi ci troviamo di fronte a tante idee destrutturate dal punto di vista anche della presentazione e della comunicazione e del motivo per cui, da una parte, c'è un'onda forte di non soddisfazione degli start-upisti a trovare nel mercato finanziario una risposta e dall'altro, invece, c'è una rarefazione di investitori che evidentemente non hanno trovato il matching di progetti sufficientemente qualitativi. Il tema importante è la mentorship, l'accompagnamento. Un'idea ha bisogno di essere strutturata, ha bisogno di avere delle numeriche. Il fatto che sia start non significa che sia destrutturata. Questo è veramente il salto in cui sicuramente anche il mondo universitario può avere un importantissimo impatto. Ecco il motivo per cui il mercato italiano è un mercato ancora debole. Lato finanziamento, lato scouting delle start-up, lato anche produzione di incubatori che aiutino le start-up proprio in quel processo di evoluzione. Dall'idea alla presentazione della stessa, ai numeri legati e poi vai dall'investitore. Comunque è una piccola, lasciatemi dire, presentazione in borsa nel momento in cui porti un'idea. Questo è l'elemento che distingue profondamente il crowdfunding dalla start-up pochino più strutturata e la possibilità di avere un vero accesso a un equity contribution.